Che cosa ferisce di più un narcisista? Prima di entrare però nel cuore del tema, io voglio precisare una cosa importante. Perché una persona, perché un empatico dovrebbe sapere che cosa ferisce di più un narcisista? Beh, deve sapere che cosa ferisce di più un narcisista, anche perché deve conoscere anche dinamiche legate alla ferita narcisistica, per varie ragioni. Per esempio, per comprendere al meglio che cosa è successo all'interno di quella relazione? Per superare i sensi di colpa, per superare il senso di vergogna, per far chiarezza nella dinamica, perché c'è una totale confusione, perché le chiusure non sono mai così ben definite, per validare la propria esperienza, per validare il proprio vissuto, perché favorisce la guarigione, perché favorisce la crescita personale, perché l'aiuta anche a evitare altre relazioni dannose nel futuro. Perciò ecco, detto questo, voglio anche aggiungere un'altra cosa. Ho fatto un quiz per te che magari hai qualche dubbio sulla tua relazione, se ti chiedi, ma forse la mia relazione non è proprio del tutto sana. Ho fatto un quiz che ti dà le informazioni se tu sei coinvolto o no in una relazione tossica. Lascio il link per scaricarlo, è gratuito, qua sotto nel video. Entro subito adesso nel tema, posso entrare tranquillamente a parlare del rifiuto e dell'abbandono. Beh, questo ferisce non di poco i narcisisti, ma vi dico come e perché. Perciò ecco, i narcisisti possono essere feriti dal rifiuto o dall'abbandono, ok? Questo perché loro hanno una grande dipendenza, ok, dall'approvazione esterna, dall'approvazione altrui, dell'altro. Perciò sono dipendenti direttamente dal ricevere nutrimento dall'altra persona. Perdere loro vuol dire una ferita emotiva, non è roba da poco per un narcisista e a volte la vittima non se ne rende conto del ruolo che ha all'interno di quel rapporto, dell'importanza che ha per il narcisista. Ma voglio sottolineare un aspetto. Quando i narcisisti perdono questa figura di riferimento, questo punto di riferimento, anche perché parlo di relazioni lunghe, di anni, non di qualche mese, quando perdono questo punto di riferimento, ecco, i narcisisti, essendo tendenti a scarsa empatia, ad aver scarsa empatia e scarsa considerazione verso l'altro, verso il bisogno dell'altro, non si concentrano tanto sul legame, sulla perdita, sul perché, la perdita del legame, quanto sul loro ego ferito, sulla loro propria immagine danneggiata. Perciò, ecco, sono più concentrati su questo, quanto sulla perdita di quel legame. Perciò quando si sentono minacciati, quando si sentono rifiutati, quando sentono che quella persona forse questa volta lo fa sul serio, beh, qua ovviamente le reazioni possono essere più o meno silenti, no? Può essere magari inizialmente sulla difensiva, dicendo ok, va bene così, se tu desideri questo, va bene questo. Poi magari c'è un escalation, no? Quando si rende conto che veramente la persona si allontana, veramente la persona va via, no? Si stacca, e beh, questo è un grosso colpo alla loro immagine, al loro ego ferito. Perciò possono essere anche reazioni non tanto di diffidenza, di ritiro, quanto anche di umiliazioni, di disprezzo, di minacce e aggressività. Bisogna tenere in calcolo tutto, anche perché ovviamente le reazioni variano da individuo a individuo, ma sono un po' queste. Perciò l'abbandono lo affrontano inizialmente magari anche con un altro love bombing, con il hovering, ma ovviamente quando la cosa diventa seria, ok, sicuramente c'è un escalation, sicuramente alcuni magari manifestano, no? Questo abbandono rumorosamente, nel senso che è un attacco alla loro immagine, è un attacco, è un falimento personale, lo leggono come un tradimento, no? Da parte del marito, da parte della moglie, anche perché loro temono che questa persona, che la vittima, una volta che sono fuori dal rapporto, possono svelare e rivelare anche aspetti un po' tenuti nascosti o comportamenti tossici del narcisista che avrebbe preferito magari tenerli per sempre lì, nascosti all'interno del nucleo della coppia. Poi la maggioranza cerca di rifiutare il proprio ruolo, la propria responsabilità della fine della relazione. Danno colpa all'altro, danno colpa ai vari fattori esterni per la fine del rapporto, anche perché è doloroso e poi la vittima, come vi dicevo, non si rende conto fino alla fine quanto era importante per il narcisista, per la narcisista, perché è la fonte più importante di nutrimento, di approvazione, era lei, era lui che si occupava da vicino, da tutti i suoi bisogni. Per loro è un colpo duro, non proprio leggero, perdere una persona così importante che dava nutrimento, su cui si sfogava, che era un tappettino e poi ovviamente la ferita, ma vi parlo dopo, varia in base a certi fattori. A tutto questo perché i narcisisti non sono capaci, non sono abili ad affrontare le emozioni negative, non sono abili a venire faccia a faccia con la tristezza, con la umiliazione, con un rifiuto, con un abbandono. Non hanno queste abilità, non hanno questa capacità, perciò non possono gestire, non possono tollerare un rifiuto, un abbandono da una persona che dominavano per tutto questo periodo, su cui aveva il controllo totale, perché lo prendono come un tradimento personale alla propria persona, alla propria identità. Ma come io, marito, moglie perfetta, genitore perfetto, mi ha lasciato, mi ha abbandonato, poi emergono ovviamente anche questi sentimenti di vulnerabilità, di frustrazione. Poi ovviamente se vogliamo dare una chiave positiva, dicevo anche nei altri video, il fatto che loro si separano, il fatto che la persona, magari quella di fiducia, quella che rappresentava un punto di riferimento, li abbandonano, ovviamente questo può darsi che li porta di fronte ad uno specialista. E qui è importante che trova un professionista specializzato in questo, che vede oltre la sua depressione, che riesce ad avere un confronto onnesto e che, anche perché la maggioranza magari dopo un percorso dove viene curata solo la depressione, ovviamente prendono la boccata d'aria e poi escono fuori, anche perché non sono costanti nel proseguire un percorso di introspezione, di crescita, di cambiamento, e prendono la boccata d'aria e poi passano a continuare gli stessi pattern, gli stessi schemi disfunzionali anche nelle altre future relazioni. Quando loro perdono questa persona tanto docile, tanto dolce, tanto attenta ai loro bisogni, tanto sottomessa, tanto dipendente, ecco, la loro ferita, la loro ferita emotiva varia. Ovviamente varia da individuo a individuo, ma soprattutto varia in base a diversi fattori. Uno di questo è l'intensità dell'attaccamento, perciò ecco come loro dopo anni di essere in rapporto, di dipendenza con questa persona, ovviamente nel momento della perdita, ok, nel momento in cui ricevono un rifiuto, un abbandono da questa persona, la vivono questa situazione come un tradimento. Poi dipende anche della durata, vi dicevo ovviamente, perché un conto per un paio di mesi è un conto per anni di condivisione, anni di convivenza con questa persona. Perciò più poi il legame, più quella persona, più la vittima è dipendente totalmente dal narcisista, più è sottomessa, ok, più, come dire, più il narcisista va a controllo totale su questa persona, più la ferita è maggiore. Perché ovviamente aveva il potere, aveva il controllo su una persona, aveva, come dire, si sentiva al sicuro, no, accanto a questa persona, perché era lui o lei che comunque tirava i figli. Perciò questa perdita varia anche in base al grado di dipendenza, ok, al grado di controllo che aveva su quella persona. Vuol dire tantissimo. Perciò ecco, la ferita è maggiormente dolorosa quando si tratta di questi casi in cui la vittima era tanto dolce, tanto presente, molto dipendente, totalmente dipendente, perché ci sono quelle situazioni in cui le persone sono veramente, vivono veramente in una vita di controllo, totalmente dipendente, soprattutto dopo anni di convivenza, sono totalmente dipendenti dal narcisista da tutti i punti di vista. Perciò ecco, perdere una persona così, beh, rappresenta una perdita devastante per i narcisisti. Un altro fattore è come reagisce il narcisista, la narcisista di fronte alla separazione, di fronte al rifiuto, perché spesso c'è rabbia. Spesso non è sempre l'isolamento, il ritiro, depressione, tristezza profonda, il senso di vuoto e stanno lì tranquilli, quanto rabbia, sentimenti di vendetta, minacce. Perciò ecco, questo è ancora più dannoso, questo ovviamente vuol dire una ferita maggiormente dollente. Un altro fattore sicuramente è il supporto, è la rete di supporto che hanno, perché ovvio è diverso se è una persona piuttosto isolata, senza amici, senza famiglia ed è un conto se ha una rete di supporto, se ha una rete di amici, così come anche per i narcisisti è importante la ferita è maggiore quando la vittima ha una rete di supporto, quando la vittima ha una vita al di fuori, quando la vittima ha un supporto solido alle spalle. Beh, anche questo conta. Perciò quello che ci tengo a sottolineare è che la ferita emotiva, la ferita narcisistica varia sì in base a questi fattori, ma soprattutto in tutti i casi le ferite emotive, le ferite narcisistiche hanno delle conseguenze a lungo periodo, a lungo termine, perché come vi dicevo a volte sì arrivano di fronte ad un professionista, hanno bisogno di un percorso di cambiamento, di miglioramento per sollevare, insomma per come dire riparare il loro ego, la loro immagine, oppure ancora di più come vi dicevo perché vogliono migliorare, ma spesso i narcisisti dopo un abbandono, dopo una relazione che è finita così male, dopo una relazione così importante, dopo la perdita di una persona che era sempre presente nella loro vita, comunque ovunque, che ha tollerato di ogni, la perdita di questa persona lascia le conseguenze a lungo termine, perché ovviamente sono meno predisposti a pensare che possono avere nuovamente una relazione così duratura, perché vivono questi sentimenti di sfida, un po' di disprezzo nei confronti delle altre persone e sono più propensi ad avere una soddisfazione immediata da quel rapporto, ad essere soddisfatto lì al momento, perciò mantengono delle relazioni superficiali, delle relazioni di breve durata, perché hanno bisogno di riparare il loro ego, perciò hanno perso la fiducia, nelle persone hanno perso la fiducia nei rapporti, perché come ancora una persona così tanto sottomessa, che sembrava tanto nel mio dominio, sotto il mio controllo, mi ha abbandonato, beh, questo è una ferita importante, perciò anche a lungo termine loro sentono le conseguenze di un rapporto del genere, perciò li lasciano comunque con un gusto amaro in bocca, perciò si fidano sempre per meno delle persone. Ed ecco è stato questo che avevo da dire, fatemi sapere voi cosa ne pensate riguardo a questo tema, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, vi è stato utile, fatemi sapere perché io sono molto curiosa di leggervi ovviamente nei commenti, aspetto e non vedo l'ora di leggere le vostre riflessioni, fatelo, commentate perché siete d'aiuto anche per le altre persone. Grazie davvero di cuore, se vi è piaciuto questo tema lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale, se ci siete su Instagram cercatemi perché mi piacerebbe interagire con voi come anche su Telegram, io da poco ho anche un canale Telegram dove condivido riflessioni e pensieri, cercatemi se volete perché mi piacerebbe condividere e sentirvi più da vicino. Grazie, grazie davvero di tutto.